L'idea seria che se in un regime dove c'è un mercato globale c'è più incentivi ad essere di dimensioni più consome con la realtà della popolazione. Quindi in teoria bisognerebbe vedere che se una popolazione è all'interno di un contenitore grande e guarda il vicino di casa che fa parte di un contenitore piccolo e dice ma quelli là sta meglio, mi magari era caro di fare come si fa con gli altri. E qua vediamo alcuni esempi. Questa qua c'è l'Irlanda che è un paese indipendente dal 1922 e la Scozia. D'Irlanda e la Scozia perché c'è tutti e due, come ho messo, celtici, sono tutti e due delle isole britanniche quindi non so niente di paragonare l'Irlanda e l'Austria. C'è due popolazioni culturalmente molto simili. L'Irlanda per tanti anni c'è stato il paese più povero d'Europa. Senonché c'è stato buono di fare delle riforme fino agli anni 90 che adesso c'è più ricchi degli Svizzeri. Ok? Abbiamo avuto una crescita, adesso mi diventerò subito questo grafico solo dal 1995 però già a partire dai primi anni 90 e l'Igattacca cresce anche mai. Cosa c'è che ha fatto? Semplicemente questo è il caso solo per l'Irlanda e si sta buono di fare delle riforme che per sfruttare il momento storico cioè il momento di globalizzazione. Nel loro caso che ha sbassato le tasse delle corporate tax che ha avuto un influsso delle multinazionali che si è andato ad aprire la sede in Scozia. Questo che ha permesso, no scusi in Irlanda, che ha permesso a una riduzione della disoccupazione del 17% che aveva negli anni 80 e adesso al 3-4%, una delle più basse in Europa. Quindi questo sì ha fatto la riforma, però se fosse stata l'Irlanda nell'Ottocento che aveva manco un effetto che in questo periodo perché? Perché le multinazionali si erano soprattutto dall'America. E perché veniva in Irlanda? Perché l'Irlanda faceva parte dell'Unione Europea. Quindi base in Irlanda ma il mercato era europeo. Quindi grazie appunto al libero mercato gli ha fatto la riforma per i bravi irlandesi. Aveva questo vantaggio comparato e lo aveva sfruttato. Però il punto se, perché non la Scozia? Perché la Scozia non aveva fatto la stessa roba? Anche loro parla dell'inglese, anche loro ha le stesse culture e poteva fare lo stesso. La realtà è che la Scozia non può fare le stesse riforme che aveva fatto l'Irlanda. Perché fa parte del Re Unito. Quindi una decisione simile che aveva da essere presa a livello nazionale, quindi a Londra. E a livello di Londra la stessa riforma che andava bene per l'Irlanda andava bene per il livello del Re Unito. Quindi la Scozia non si sta in grado di sfruttare la stessa opportunità che era a sfruttare l'Irlanda. E non a caso che c'è un forte sentimento indipendentista in Scozia. Perché appunto devono riaffare anche loro la loro politica che va bene per la propria gente. Un altro caso interessante è il caso del paragone tra Germania dell'Est e Slovacchia. Perché c'è un caso interessante? Perché la Slovacchia insieme ai cechi, subito dopo la fine del comunismo, ha deciso di andare ognuno per la sua parte. Ha fatto i gambottai, ha detto voi altri, vedi qua noi altri abbiamo per lì, amici come prima, tutte le robe tipo il debit che aveva, ha deciso se lo divide in modo uno perché noi altri abbiamo un'economia più potente e quindi gli siamo messi d'accordo tutti contenti. La Slovacchia, come tutti gli altri paesi dell'Est europeo, che vi ho fatto vedere nel grafico precedente, è tutti in grande crescita. Mentre la Germania dell'Est, che è i tempi del comunismo, era l'amanto peso, era l'economia più accreditata del blocco comunista, che ha accettato la strada posta. Cioè, è andato a far parte della Germania che ha fatto l'unificazione con la Germania dell'Oris. Quindi questo cosa voleva dire? Si sta in onda dei fondi, cioè dei fondi per lo sviluppo. Non solo a livello della Germania, ma proprio a livello europeo. Cioè, mentre la Germania era il paese che dava più risorse all'Europa per la politica delle regioni più povere, allo stesso tempo la Germania era il paese europeo che riceveva più fondi dall'Europa per sviluppare la propria regione più povera, e cioè la Germania dell'Est. Quindi gli ha fatto una specie di cassa di mezzogiorno per la Germania dell'Est, e si è qua i risultati. Cioè, i risultati di sé che negli ultimi 10-15 anni la Germania dell'Est non si è più su, anzi, si è veramente in discesa, e quasi si faccia fare dalla Slovacchia, che era il più poerente della Cecoslovacchia. Non avevo messo nel grafico i cecchi o i ungheresi, perché anche lì fra poco i sorpassi che abbiamo in inglese. Vengo messo nel grafico anche a Berlino, cioè proprio come capitale, che già sta subito ricevuto degli investimenti enormi per portarla al livello di capitale occidentale, ed ecco il risultato di questa politica assistenzialista in un paese enorme di 80 milioni di abitanti, fra l'altro federale. Cioè, la Germania è un paese federale, quindi non è che il federalismo, magicamente, cioè, è comunque delle realtà che fai comunque parte di un contenitore dove delle decisioni viene prese a livello centrale e quindi che non necessariamente giova alle popolazioni all'interno di questo grande contenitore. Un altro esempio, e questo ve lo faccio perché tante volte si pensa, ah, se uno parla di indipendenza vuol dire che, ah, se parliamo di noi altri, beh, si stacca dopo il sud che riceve tutti questi scheri da noi altri che vanno adesso. E questo perché c'è anche tanto vittimismo, ma se c'è la Dargischeia nella regione più povera, perché loro c'è più in periferia dell'Europa, non c'è le stesse opportunità che c'è dentro, che c'è vicino alla Germania e alla Francia come come opportunità commerciali che hanno in cultura mediterranea, però invece vediamo che da sto grafico che anche a loro, tutto sommato, anche a loro i suoi vittime di un contenitore che non li rappresenta. E questo, ve lo dico, paragonando la Grecia, che anche la Grecia è un paese mediterraneo in periferia d'Europa e le culture mediterranee, tanto quanto la Sicilia, la Calabria e la Campania. Però vediamo che, come paese di esodese milioni di abitanti, la Grecia si sta buona da fare le riforme per avanzare la propria economia, quindi, perché aveva un vantaggio comparato diverso dall'Irlanda, magari non c'era più per lo sviluppo del turismo che lo pesera, però sicuramente delle opportunità che ha tanto quanto la Sicilia, la Campania, la Calabria, la Puglia. Solo che siciliani, calabresi, pugliesi, campani, anche a loro gli fa parte di un contenitore che non li rappresenta. Cioè loro, anche volendo, non imporre fare delle riforme, delle decisioni per proprio vantaggio. Perché anche loro non viene rappresentati e quindi diventano vittime di un ciclo vizioso che le porta a questo declino. Infatti adesso non paragono con gli altri stati, però adesso l'Italia si è a livelli inferiori di tanti paesi dell'est europeo. Confronto a vent'anni fa dove la situazione si era contraria. E questo per arrivare più vicino a casa, questo c'è il paragone tra Slovenia e Friuli-Venezia-Giulia, ma la tendenza comunque è simile soprattutto al trigonometro. Cioè questo declino e si incontriva farsi ciappare da paesi che qualche anno fa, qualche decennio fa, non vedevano neanche col minopolo. Grazie.